Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Questa sera Napoli-Milan. Se non hai visto il video, è quello pubblicato subito prima di questo, quindi ti consiglio di andarlo a vedere perché veramente è il match clou. Clou? Clou? Come si dice? Clou? Clou? Si dice clou. È il match clou di questa giornata dei Champions, la partita più importante anche per noi italiani, per curiosità, anche per noi che non siamo tifosi né del Milan né del Napoli, quindi se non l'hai visto lo trovi nel video precedente. In questo video analizziamo le partite di domani, l'Inter e l'altra, in realtà, secondo me, poco rilevante tra Bayern e City. Insieme a me, come sempre, c'è il libraccio di metodo Stats4Bets che mi sta accadendo, ho fatto un match clou, e ci andiamo a vedere le altre due partite, e quindi che ci restano di domani. Guardiamo subito Bayern Monaco City, anche se dal punto di vista prettamente della qualificazione, secondo me, non c'è storia. Cioè, il City già sta nella semifinale, è già andato avanti. La cosa potrebbe essere più interessante, invece, sul mercato dei gol. Vedo che anche l'intelligenza artificiale si immagina qualche gol in più del solito. Perché? Perché credo che comunque il Bayern Monaco, che comunque mantiene la sua difficoltà di quest'anno, perché nell'ultimo turno di campionato non ha vinto in casa, era pagato a 1,20, ha pareggiato 1-1. Non mi ricordo qual era la squadra, ma squadra di merda, per capirci in francese, ma anche in tedesco credo che si dica squadra di merda quando hai la quota 1,20 e non vinci. Però, comunque, stiamo parlando del Bayern Monaco. Una cosa favorevole al Bayern Monaco la dobbiamo pur dare. E, secondo me, personalmente, è il gol. Quindi, considerando che, credo che il City, il suo gol, lo faccia sicuramente, la seconda opzione, secondo me, cioè, la seconda opzione, il secondo gol, secondo me, lo fa il Bayern Monaco. Quindi, per me, su questa, l'esito più probabile è il gol. Nonostante, allo stato attuale, però, si gioca domani, quindi le quote potrebbero ancora aggiustarsi, rialzarsi, rifare, quello che può succedere. C'è questo piccolo rialzo, da 1,44 a 1,50. È un rialzo che non preoccupa, tant'è che l'intelligenza artificiale lo studia, ma non gli dice niente, cioè, ci dice, va bene così. Interessante notare che la probabilità statistica è meno, cioè, è più alta rispetto a quella del flashback, che è meno sicura. 57,6, evidentemente, nel flashback questo rialzo un po' si sente, e quindi ci abbassa un po' la percentuale. Vediamo se quella dell'over potrebbe essere più alta. Più alta, per esempio, l'over al 63,5 viene dato più alto. La quota dell'over è in calo, da 1,62 a 1,53. Anche la statistica dell'over è più alta di quella che ci presentava il gol del flashback. Non lo so, io tendenzialmente, quando scelgo un over, preferisco sempre sceglierlo su un gol facile. Quindi il fatto che la quota del gol sale e quella dell'over scende, non mi è del tutto chiaro. Però, volendo, si può anche puntare sull'over. Non so, ci si immagina nuovamente uno 0-3 per una delle due? Per me è molto strano immaginarlo. Mi immaginerei più un 2-1 per l'una o per l'altra, un 2-2, cioè una partita ricca di gol, ma non mi immagino lo 0-3 o addirittura 0-4, Bayer Monaco che elimina il City. Non mi immagino quella configurazione lì. neanche mi immaginerei il City che nuovamente fa 0-3 a Monaco. Mi immagino una partita da gol. Però l'intelligenza artificiale suggerisce anche l'over, quindi possiamo tenere valido anche quello in questo caso. Per me rimarrebbe gol. Poi ci andiamo a vedere l'Inter. Allora, l'Inter è un po' come all'andata. Inzaki è nella condizione che, se vuole andare in vacanza anticipata, se vuole passare le giornate al mare già da 1 maggio in poi, gli basta perdere sta partita. Se Inzaki perde sta partita e viene mandato fuori dalla Coppa, in automatico, quando esce dallo stadio, gli fanno trovare la borsettina, la giacchettina e un paio di ringraziamenti ringraziamenti e lo mandano a fanculo. Questa è un po' la situazione dell'Inter in questo momento. La cosa è già stata fatta anche per altri giocatori, per Lukaku, già è sicuro, gli hanno detto bella Romero, grazie per tutto quello che non hai fatto quest'anno, teneva a fanculo e situazioni del genere. Quindi, è un Inter che ha il vantaggio del 2-0 dell'andata, ma nonostante questo, sia l'intelligenza artificiale ci mette questo rischio davanti, sia le quote ci hanno questo piccolo rialzo su una partita che teoricamente una volta che hai vinto 2-0 in Portogallo, io non avrei immaginato di nessuna difficoltà, cioè mi sarei immaginato un Inter a 1,70 a 1,80 quota in calo, invece no, l'Inter riuscendo a perdere anche con il Monza in casa, riuscendo a continuare queste stagioni veramente tribolata, anche in Champions ti tiene un po' tutto aperto che magari ci fa ci fa un po' stare sulle spine. Non me lo sarei aspettato onestamente. Per me la partita è da 1-X perché dopo che hai vinto in Portogallo 2-0 ma io a vedere sto Benfica che ribalta sto risultato ragazzi io non ce la vedo la situazione ma non saprei cosa attribuire al Benfica cioè non andrei a rischiare neanche una X primo tempo un gol del Benfica cioè per me la partita si sposta tutta sull'Inter perché questi dovranno venire ad attaccare a cercare di ribaltare fai contropiede fai gol cioè è molto difficile come valutazione per me in questo momento perché dovrei trovare un esito che va contro l'Inter e non è per l'Inter in sé perché l'Inter in sé l'abbiamo visto durante l'arco di tutta la stagione che numeri atroci orribili che ha però per questa partita è troppo avvantaggiato e gli altri risultati sono difficili da valutare perché il flashback qui è assolutamente equilibrato qui è anche c'è questo over 1,5 al 72% qui 74% però è molto molto vicino al 70% dell'Under e al 73% dell'Under sono così vicini che potrebbe anche essere una partita in cui c'è un solo gol perché quando c'è questo equilibrio veramente poi si sposta di un niente non è un'indicazione troppo vantaggiosa o favorevole possiamo immaginare un multigol 1-3 al 61% qui 64% è anche un pochino stuzzicante il 2-4 perché veramente guardate quanto è vicino il secondo gol 61-60 64-60 il 60 è ripetuto sia nel flashback che nel campo nella probabilità è un po' più rischioso secondo me il multigol 2-4 io andrei più sul multigol 1-3 visto che decidiamo di abbandonare la 1-x2 decidiamo di abbandonarla perché per me è strano cioè al massimo io quasi proprio dovessi dare una opzione al benfica io l'1-0 non glielo darei io devo essere onesto questi risultati esatti non mi piace quasi nessuno cioè l'unico che salverei è l'1-0 ma secondo me qui possiamo mettere 1-0 1-1 se proprio vogliamo dare questa chance al benfica 1-0 e Inter che poi mantiene la qualificazione comunque al novantesimo non subendo la seconda rete possiamo fare questa visione del campo però dico la verità sono molto 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 sorpreso perché per me questo era un match che quasi aprivi chiudevi e non c'avevi niente da analizzare perché dopo il 2-0 dell'andata cioè cosa vogliamo aspettarci al benfica per me era tutto sull'Inter però i dati questo ci dicono le quote vanno tutte contro l'Inter in questo momento addirittura sale anche la X è vero che si gioca domani quindi può cambiare qualcosa però cavolo sono sono sorpreso e quindi per me vale a quel punto il multigall 1-3 sulla 1x2 per me resta la 1x però è una valutazione mia personale qualche dato va contro questa 1x quindi preferisco non non approfondirlo non spingerlo più di tanto per questo video è tutto domani uscirà il video sui ritorni di Europa League e stasera ci godremo questo Napoli-Milan se ripeto se non hai visto il video è quello subito prima di questo ci vediamo nel prossimo video un po' Grazie.